Siamo in via viana, vediamo di capire i lavori, come procedono in via diana tra le vie Moulet e Forza Europa, dalle 7.30 di giorno 11 fino a fine lavori, quindi non si sa di preciso quando finiscono i lavori, e questo è già un dato che dovrebbe fare il prossimo. Qui si vede i lavori in forzo, si vede che hanno intenzione di allargare i mazzi a piedi, sicuramente come era l'aspetto con le carrozzine non dovrebbe essere molto alti, quindi si era previsto l'abbattimento delle barriere di questo l'anno qui. Vediamo la parte di qua, anche qui stanno testando di lavorare per allargare i mazzi a piedi, vediamo a piedi, vediamo il problema è che quando arrivano si trovano improvvisamente la strada chiusa, barata. il posto sarebbe stato opportuno mettere qualche indicazione prima, in maniera che uno che arriva e deve girare verso questa zona non si trova, non si trova a disagio. E qui abbiamo ovviamente l'ordinanza, l'ordinanza è un divieto di soste di cento unico in situazione, è un soste di via diana per lavori di abbattivoli sovari architettoniche e i mazzi a piedi. e qui abbiamo avuto un po' di più 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 di più. Vabbè quando si fa in lavoro è chiaro che qualche inconveniente c'è. Ha visto? No, era già così. Ah era già così. Ha sentito signora? Dice che era già così eh? No no era già così qua. Qual è lei eh? Ah sono del giornale, va già presto. La signora si è lamentata che ci avete rotto qui ma non lo so. No è rotto qui. Ma l'avranno portato via? Che non so veramente. No no ma era già, io l'ho già visto stamattina ma non c'era neanche qua eh. Non c'era qua quel pezzo lì. L'avranno portato via? Eh chi l'ha portato via non lo so ma è già un po' che è rotto qua. Chi l'ha portato via? Se l'avete fatti voi? Eh stamattina l'abbiamo... Era già via. Era già via già ma da un pezzo era via. Io non so ho fatto anche il mangarò che aveva detto no ti ho fatto tutto. No no, non abbiamo toccato niente. Poi cosa? Si spaccava questo e rimaneva questo. Questa che l'ho sistemato. Ah non lo so, io non devo sistemare niente sotto il giornale. Manca un pezzettino lì sotto il cancello lei dice. Ma prima c'era quel pezzo lì. Si sente. Si sente. Si sente. E' quella di là. Allora, stavamo dicendo. Vediamo via Deana. Le macchine girano dall'altra parte, si perdono un po'. E beh, chiaro, qualche giorno di disagio ci sarà. Staviamo ora. Un po' di musslei. E beh, chiaro, qualche giorno. Grazie.